Oe ragazzi, praticamente questa settimana è partita con il piede, è noioso, noioso, il rumore che si vede è Lucia, Lucia oggi non vuole essere inquadrata, intervistata, ripresa, non vuole apparire come lei non appare tutti i giorni, è un dramma, parliamo. Le sue cosine, guarda tutto il web, lo saprà, e sta male, io mi ricordo Lucia che era una ragazza vespa, una ragazza serena, gioiosa, ha parlato, posso? Dai, appena, appena, dai, appena, appena, dai. Ok, va, questo è quello che è, sono le otto e mezzo, le vecchie trenta ragazzi, ci stiamo spaccando le luci, le luci, meno male che io ho questa barba da accarezzare, qui, così almeno passo un po' il tè, e niente dai, ci vediamo. Pizza, 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 ragazzi, pizza, sono solo, sto vedendo un film su Telenorba, è una nemitata locale, di Padre Pio, me lo ho messo appena adesso, è praticamente, di Castellitto, di Sergio Castellitto, e niente, sto a vedere, Era già iniziato, stavo facendo, come si dice in America, zoppi, e Lucia è di là che ha i suoi dolori, ma ve sta poco poco meglio, e io mangio la pizza, se non lo si frezza, mi dice Lilli, Lilli, Lilli che scappa. Ciao ragazzi, sono qui a Nin, come vedete ho un'altra tipologia di flash, il flash frontale del mio telefono, siamo qui in chiusura, Lucia ha delle forze per fare la ripresa, e dietro di voi Lucia, ciao, ciao. Ehi, vede le ombre, le ombre cinese, si ecco perché ti dico, scusa, se no ci sentai lì su un casino, c'è la tv in camera stasera, perché siamo stati nel letto, e vabbè io ho mangiato la pizza, ma avete visto. Ehi, ragazzi, domani meno male che è un bel cuore lì, questa settimana è partita proprio depressa, male, male, male per me è male. Depressa, 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 ma vediamo domani con un po' di... Male e dolorante per me. Ammazza, che bel pilo. Che bel pilo che c'ho. Non ci interessa del pilo. Dai, ricorda i nostri amici. Mi ricordo. Ecco, mi hanno tutto. Mi ricordo di iscrivervi. E metti la luce. Mi ricordo di iscrivervi, di commentare, e rossa le palpe. Dai, dritto. E amen. Amen proprio. Vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di lasciare un bellissimo... Mi piace. Mi piace. Da oggi parlerò così. Così scandisco bene la mia dialettica. Da dietro mi fanno tempo di stringere. Di stringere le mele. Bene, ragazzi. Il video si conclude qui. Arriba dolci. Buonanotte.